Hello ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Poki e oggi siamo tornati qui su Puzzle Bubble Pocket. Nella scorsa foto abbiamo fatto livelli da 131 a 140, oggi andiamo avanti. Ok, prendilo, no, vabbè, prendilo, bravo. Ok, bene, ok. Ok, prendilo. Ok, prendilo. Ah, no, aspetta. Ok, prendilo. Ok. Ok. E... Ok No Ok Ok Benissimo Ho dato un attimo Bene Facciamo riprendere Ok 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 Era per rimediare al Al mio Ok 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 Grazie a tutti. 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 No. 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 Ok, vediamo le nuova No, no, no. Ok, ce l'abbiamo fatta, grazie palla infuocata. Bene ragazzi, io direi che per questa parte questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!